Ciao, io sono Giuseppe e lui è Gino, cane da ricerca esplosivo. Ora siamo in servizio, ma tra poco andremo in vacanza insieme. Come me, anche Gino soffre il caldo. Per questo non lo lascio mai troppo tempo al sole, lo faccio bere molto e lo bagno spesso. Passeggiamo soprattutto all'alba e all'imbrunire, quando l'aria è più fresca. Per ospitarlo ho scelto una struttura attrezzata e non mancano spiagge aperte a lui. In macchina Gino può viaggiare in apposito alloggio o nel vano posteriore con una barriera divisoria. Mi raccomando, se hai pensato ad una vacanza senza il tuo amico a quattro zampe e non hai nessuno che può prendersene cura, non disperare, affidalo a una delle tante pensioni dedicate oppure rivolgiti a un dog sitter. Le soluzioni per non abbandonarlo non mancano. A te il compito di decidere responsabilmente cosa fare. Non dimenticando che l'abbandono è reato. Io, se non lo porto, non parto. Dai, andiamo!